Istituito uno sportello ascolto per alunni, docenti e genitori delle scuole del distretto sociosanitario di Sette, anche a sostegno dell'emergenza Covid-19. Uno spazio protetto di confronto, di sostegno ed aiuto psicologico per studenti, genitori e anche per docenti. Lo sportello ascolto, con la presenza di quattro psicologhe, sarà aperto a chi ne farà richiesta. Ai ragazzi, per garantire uno spazio nel quale esprimere bisogno e difficoltà, ai genitori per affrontare i disagi dei propri figli. I colloqui potranno essere svolti in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid o, in base alle necessità, in modalità online. A gestire lo sportello ascolto, con una propria echip di psicologhe, sarà l'Istituto Valden di Menfi, che si è giudicato il servizio a seguito di bando pubblico. Il progetto di sostegno alla genitorialità e di prevenzione del disagio giovanile vede coinvolte diverse istituzioni. I comuni di Sciacca, Ente Capofila, Caltabellotta, Santa Margherita di Belice, Montevago, Menfi e Sambuca di Sicilia. L'ASPA di Agrigento, con il servizio di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza. L'ufficio di educazione e promozione alla salute, i consultori familiari e gli istituti scolastici del territorio. Questa mattina si è svolta una riunione convocata dall'assessore alle politiche sociali del comune di Sciacca, Gisella Mondino, e dal dirigente del secondo settore servizi sociali, Filippo Carlino, alla quale sono stati invitati tutti i soggetti coinvolti e interessati per la sottoscrizione di un protocollo di intesa. Il documento è finalizzato alla condivisione degli scopi del progetto e alla collaborazione per la realizzazione delle attività, il cui avvio è previsto per la prossima settimana. Sono stati invitati i rappresentanti degli istituti comprensivi Dante Lighieri e Mariano Rossi di Sciacca, Santi Bivona di Menfi, Edmondo Di Amicis di Caltabellotta, Fra Felice di Sambuca, Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita e Montevago, la secondaria Agostino Enveges di Sciacca, gli istituti superiori Amato Vetrano, Don Michele Arena, Tommaso Fazzello ed Enrico Fermi di Sciacca.